guardate che gioco mi porta oggi marco grano sul suo canale c'è nal allora la faccetta briella briella se non ricordo male l'avevo fatto i tempi l'hanno fippato legger oh quanti ce n'è oh boh non ha fatto i gracchetti ah lui è un amico forza no nooo ok ok tu che sei? tu che sei? dai tu che sei? ah guarda tu sei un borbo uuuu uuuu quello che vuoi? adoro sei anche il borbo il borbo aaaa quello che vuoi? io ho il borbo del borbo il borbo oh cacchio ah e beh si bello proprio giusto 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 oh no no ma col roba era meglio è un casino dai dai col boss anche dai col boss anche si 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 va dai è difficilissimo ragazzi qui sotto qui mi lascia oh cos'è? è difficilissimo oh è che cosa bella nooo nooo l'ultimo scemo le mele le mele è bello che cade in giù eh e questo era un bonus è un extra che cazzo è? ma dai ma perchè non mi da la roba? aaaah la palla è infocata eh non me lo prende col giù grazie non corre niente questo scemo ah non corre eh sono già chiudio una volta guarda adesso mi mi fa riprendere più avanti eh ti dà più scarmatura oh nooo eh no eh no eh no eh no fancy me ne fai dai il gioco è difficilissimo è difficilissimo eh no niente quando viene avanti è più veloco così non non c'è fuori non c'è niente vedi? andiamo avanti così se non ti muovi prima se non ti muovi prima eeeh qual'era quello lì? un pugno un mitire ma tanta roba c'è questo qua ma nooo molla ragazzi cioè devo anche girarmi indietro ma è impossibile un gioco impossibile oh raga è più difficile il demon's phone dai ma quanto dura sta vita di sto boss è infinita sai che l'hanno già finita una volta ragazzi eh? eh niente non posso sparare tre colpi via noi stiamo mezz'ora qua va 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 via 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 oh ce l'abbiamo fatta wow che bella mano mission complete però ho solo fatto 37 volte mission complete grande trance ah c'è la mission 2 zombie? eh si ma questa c'è è morto e si è trasformato in zombie è morto e si è trasformato in zombie è morto e si è trasformato in zombie davvero? davvero? nooo mamma mia si è diventato zombie per un po' ma ma che roba nooo ho ammazzato i tipi e sono diventato i zombie nooo nooo ma che cazzo? ma che cazzo? si è dietro raga come fai? e poi non li prende nooo ma che cazzo? nooo ma che cazzo? nooo ma che cazzo? mi prende una zombie anche madonna poi ci mettono in vita a salire ma questa è una una chimia da zombie una chimia essa che spara con un mitragliatore ehhhhhhh ancora Sì, ma non hanno calcolato che il gameplay ci va in basso e non ce la fai a sparare, incredissimi ragazzi, bellissimi. Con la parte delle durezza, cazzo qua, dovete non aver vinto. Oh signore. Un saldino. Dai, muori. Porca miseria, ragazzi, è difficile. Un saldino. Cosa figa che si può continuare. chiaramente farà schifo il livello ma questo ah sono già diventato zombie oh 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 ok 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 di fuoco da paura ragazzi, oh un bel cannone, si voleva un bel cararmato, mi stavo proprio dentro un bel cararmato, ah bello, nooo i mega zombie, ah boss, per lo zombie, e c'è il boss che mi lancia le bombe, ma ce la faccio, guarda come va lento, loro si che hanno capito come si fanno i veri giochi sugli zombie, guarda questi sono giochi grafica zero ragazzi, però sono divertenti, devo dire la verità, e poi sono giochi di altri tempi, retro gamer a cui si sta parlando, ah mi stronzo, ah mi ha zombetto, oh madonna adesso va, va lì vincolo, ma non si abbassa neanche, adesso esplodo, boom, sono anche mi cazzo ma dai, ma due granate sto lanciato, ma sei serio? oh 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 si dà la linea di boss vabbè vabbè 3 ci sta 4 ma si ma sicuro non c'è barro non c'era niente una volta raga non sai mai che il mostro lo stai facendo bene quant'è la vita loro invece adesso con tutte le belle barrettine che ti dico porca 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 come gira no dai ma quanto giri veloce ce l'abbiamo fatta raga quattro vite e bella e bella ebbè ci stava dentro che è venuta giù la roccia e mi ha scassato ciccio bello ciccio bello ma tu vuoi vedere che io devo salire su sti rovi ma no devo solo spararli non era finita non l'ho finita ebbene 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 c'è il simbolismo eh un attimo un attimo un attimo un attimo ebbene incredibile 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 ebbene 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 si si vabbè adesso non è che sto attento tanto io una sopra l'altra una sopra l'altra si è incastrato e continua si finiamo sto livello e ci vediamo in un prossimo video fino ad andare avanti dai 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 muoviti ah ce l'ha fatto ce l'ho fatto raga incredibile level 2 wow ok ragazzi romanzo retro è tutto cosa c'è questo no 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 basta 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 però oggi non è mission 3 lasciamola stare ok così continuiamo da qui la prossima volta e quit raga vai ciao ragazzi la metal slug 3 l'edizione ps4 è tutto marcelone games retro alla prossima statemi bene mi raccomando di seguire su youtube facebook sit instagram sit top twitch discord e telegram ma soprattutto attivare la campanellina su youtube e twitch mettete mi piace commentate e ci vediamo sui social ciao ragazzi mitici ciao 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 ciao